L'inquinamento, la centrale, quello è il primo, il primo problema è quello, poi vabbè adesso traffico più alto, stanno diventando troppe macchine a Civitavecchia, una volta che quello poi altri problemi ci sono, le strade che ci sarebbe da rifarle un po' tutte, più che altro sono quelli che ha i problemi di Civitavecchia, se sta male però ci sarebbe da gestire meglio l'amministrazione comunale in maniera da poter fare qualcosa di più a livello proprio per la città, potrebbe essere una città che vive di turismo, questa tranquillamente, ma non la sfruttiamo.